Ciao a tutti e benvenuti a questa nuova puntata. Oggi vorrei iniziare una nuova serie di video che parlano degli youtuber internazionali. Ecco di quelli youtuber che hanno iniziato proprio a parlare dell'orologeria. Oggi parliamo del canale The Urban Gentry ovvero il canale portato avanti da Tristano Jeffrey Veneto che si fa anche chiamare TGV appunto perché sono le sue iniziali. Prima di iniziare questo video volevo dirvi che ho cambiato il microfono quindi spero insomma che l'audio sia migliorato. Insomma fatemi sapere anche nei commenti che cosa vi sembra. Allora io ho conosciuto Tristano personalmente ecco ci siamo scritti tante mail quindi naturalmente questo non è un video imparziale perché io lo considero un amico. Ecco ci sono tante informazioni che ho preso negli anni ecco scrivendoci quindi ho pensato che questo video fosse particolarmente piacevole per tutte le persone che lo seguono da anni ecco. Tristano nasce a Londra nel 1983 però passa la prima parte della sua vita in Italia in un comune che si chiama Cordovado ed è vicino a Venezia. Ecco fa anche le elementari in Italia e questo è il motivo per il quale parla bene l'italiano quindi ascoltando appunto questo questo video poi mi dirà se ci sono delle inesattezze. Ecco poi a un certo punto quando è più ragazzo torna in Inghilterra torna a Londra e vive nel quartiere di Wimbledon. Ecco lì arriva e frequenta l'università ha un studia arte e poi successivamente verrà tornerà in Italia a Firenze dove passa più o meno un anno sempre studiando arte. Ecco è a Firenze che incontra quella che poi sarà la sua moglie futura che è di New York quindi si incontrano a Firenze e dopodiché decidono di andare a vivere a New York. Quindi ha passato gli ultimi dieci anni a New York a parte un anno che ha trascorso a Barcellona. Ecco lui fa il tecnico del suono e lavora con delle band musicali soprattutto del mondo del rap. Ecco ha detto che a un certo punto era un po' stanco anche di questo di questo lavoro e appunto si prese una pausa di un anno quindi andò con la moglie a vivere in Spagna a Barcellona ma poi è rientrato a New York. Da 2014 conduce un canale YouTube e è il più grosso praticamente sulla piazza con 280 mila iscritti che veramente sono molti. Il canale The Urban Gentry parla di orologi. All'inizio aveva uno spettro molto più largo, parlava anche di libri, di film, di arte, parlava anche di vestiti. Poi però negli anni si è andato sempre più specializzando sugli orologi. Ecco gli orologi di cui parla sono veramente tutti. Un po' il motto del canale è che tutti gli orologi hanno pari dignità e lui stesso indossa orologi dai più svariati prezzi. Ecco partiamo dall'orologio più costoso che credo sia il Rolex Submariner fino ad arrivare ad orologi come Casio Digitali da 50 dollari. Ecco è molto legato sia alla famiglia italiana sia alla famiglia inglese. Ecco ha un rapporto particolare con il nonno e il quale gli ha passato proprio la passione degli orologi. Infatti uno dei primi orologi che ha avuto Tristano è stato appunto un orologio del nonno che prima del nonno era del bisnonno ed è un Charles Froggium. Speriamo di averlo pronunciato bene. Ecco il Charles Froggium è un orologiaio che produce orologi quasi artigianalmente. È inglese, sappiamo che l'Inghilterra ha una grande tradizione di produttori di orologi. Ecco questo è un orologio particolare, un orologio che è stato fatto su commissione proprio del bisnonno. Durante questi quattro anni di vita del canale Tristano ha dovuto superare diversi problemi da un punto di vista della salute. Appunto ha avuto per almeno tre volte il collasso dei polmoni che ha dovuto e quindi sottoporsi a diverse operazioni che poi sono andate tutte a buon fine. Oggi sta in buona salute ecco ha risolto ecco suoi problemi però in questo in quei periodi sono stati particolarmente difficili e lì ha evidenziato anche una forza d'animo non indifferente. ecco. Una peculiarità del canale di Tristano è quella di lanciare nuovi trend ovvero è uno veramente dei pochi canali che è riuscito a valorizzare determinati orologi. Ecco pensiamo per esempio al SARB 035 ecco che sto indossando in questo momento ecco lui c'ha il SARB 033 ecco sicuramente era un orologio probabilmente famoso in Giappone ricordiamoci che è un orologio destinato al mercato giapponese però ecco diciamo che in Europa o in America quando lo ha lanciato lui non erano quando l'ha proposto lui non era così famoso oggi è uno degli orologi più presente anche sui social social media ecco un altro orologio che ha avuto la stessa ecco è stato il Timex Marlin ecco questo Timex Marlin che ho anch'io è questo il vintage ecco questo orologio è stato acquistato appunto da lui vintage dopodiché ha acquisito sempre di più importanza ecco la gente ha cominciato a comprarlo considerate che ce n'era veramente tanti perché era un orologio che ha avuto parecchio successo nel passato quindi ce ne sono tanti sul mercato e poi la Timex ha deciso di riproporlo rifarlo un altro orologio che è diventato famosissimo è stato lo ZIN 104 ecco anche quello era un orologio che non era famoso per niente è stato acquistato da lui recensito poi lo ha tenuto insomma è uno degli orologi che indossa spesso dicono che sia di ottima fattura io sinceramente non l'ho mai visto di persona ma sicuramente posso dire che uno degli orologi più fotografati ecco che c'è anche su Facebook ecco un altro orologio che ha subito un incremento di valore esagerato è il Tag Heuer 1000 ecco questo è l'orologio che viene utilizzato da DiCaprio nel film The Wall for Wall Street ecco tanti pensano che sia un Rolex ecco in realtà è un orologio al quarzo ecco lui ci ha fatto una recensione apposta su questo su questo su questo film e appunto su questo orologio che veniva indossato dal da DiCaprio e anche lì le valutazioni insomma il prezzo di questo orologio è andato alle stelle ecco quindi ha influenzato influenza molto ecco il mondo dell'orologeria ecco credo anche che se negli ultimi anni c'è una tendenza al diametri un po più piccoli in parte sicuramente sia dovuto anche al fatto che lui auspica insomma un ritorno a dimensioni più tradizionali insomma come erano una volta ecco una volta si utilizzavano diametri di 34 36 mm oggi siamo andati insomma anche per gli orologi eleganti sembra quasi una normalità il 40 41 mm ecco quindi sicuramente c'è un ritorno a misure più contenute in parte credo anche che abbia contribuito Tristano le altre passioni di Tristano sono sicuramente l'arte visitare musei e leggere libri film ecco ne ha recensiti diversi soprattutto all'inizio ora purtroppo insomma non c'è più il tempo necessario per poterlo fare e poi è un collezionista di modellini di cararmati e modellini di aerei soprattutto militari è famoso per utilizzare la penna parker jotter gli piacciono i coltelli anche lì c'è una bella collezione di coltelli che utilizza per i suoi unboxing e poi è un cacciatore ecco questo soprattutto nel gruppo facebook gli ha portato diversi grattacapi perché naturalmente noi soprattutto qui in toscana e sicuramente in veneto e con lombardia anche in campania ci sono tantissimi cacciatori quindi per noi non è una grande cosa però negli stati uniti sono molto sensibili proprio per i disastri che ci sono che avvengono dovuti proprio alle armi e quindi le persone sono molto caute a pubblicare magari orologi e pistole orologi e fucili doppiette ecco queste cose qui però tristano comunque siccome è un amante di degli dei dei fucili e quindi ha detto insomma che fucili si possono si possono appunto pubblicare e infatti sul gruppo facebook si possono vedere appunto diversi insomma a fucili anche di di pregio ecco con con incisioni insomma ecco per chi a chi piacciono ecco parliamo anche delle controversie che ha dovuto affrontare tristano in questi questi quattro anni ecco all'inizio quella con arci luxuri ecco dicevano appunto che lo copiava però dico arci luxuri è vero che è stato il primo youtuber e su questo non ci sono dubbi poi farò anche un video dedicato ad arci luxuri però diciamo così che insomma lo stile di tristano è completamente diverso ecco da arci luxuri insomma ecco quindi al solito ci sono state tante polemiche ma dal mio punto di vista non c'è sostanzialmente ecco non credo che ci sia stato nulla di che all'inizio erano amici poi probabilmente quando sono cresciuti forse tristano è cresciuto di più insomma questo rapporto si è andato a credo che non ci sia più però insomma fa parte anche della insomma della della vita ecco poi c'è appunto la controversia con federico talks watches e teo n harris allora lo diciamo tristano era già abbastanza grosso viaggiava già sui 60 70 mila iscritti mentre loro praticamente non erano conosciuti per niente poi a un certo punto lui li ha presentati loro sono cresciuti e sono insomma sono arrivati a un bel a bel numero e poi a un certo punto insomma tristano si è staccato ecco vorrei anche dire poi ne parlerò in un video dedicato a un certo punto tristano ha dovuto prendere una decisione lì diciamo gli iscritti li chiedevano sempre di più video sia di qualità sia di quantità quindi a un certo punto ha dovuto fare una scelta all'inizio era solo una passione che poi è diventato di fatto un lavoro perché stare dietro a un canale come quello credetemi che ci vuole tantissimo tempo solo pensate alle intro che fa che sono bellissime ecco per fare quelle intro lì io non so quanto tempo ci voglia per realizzarle ecco poi pensiamo al gruppo facebook pensiamo a instagram cioè è un lavoro veramente grosso che gli iscritti gli hanno chiesto a un certo punto lui si è dovuto organizzare no quindi diciamo che anche su youtube non è che c'è spazio per tutti è soltanto in pochi possono vivere diciamo così ecco di youtube quindi a un certo punto è anche normale che determinate amicizie insomma può succedere che si diciamo si dividano no un po anche le carriere ecco tutti federico torscuocci se vende orologi così come tion e harry se vende orologi lui ha preso un'altra strada insomma fa parte quando si entra da una passione si entra nel mondo diciamo così del lavoro è anche normale che determinate relazioni insomma si possono anche allontanare ecco questo fa parte insomma del del vissuto normale della vita ecco un'altra critica che li fanno è appunto la filiazione ad amazon ecco io ne ripeto ne parlerò di questa cosa qui in un video poi specifico vi posso dire che nel momento in cui è chiara la cosa cioè è detta e nel suo caso è più che detta che c'è una percentuale che appunto va al a chi produce questi questi video del canale e quindi insomma secondo me non c'è nessuna controversia è una cosa normale che deve fare appunto per poter tirare avanti il canale pagare le proprie bollette insomma e pagare insomma le spese della propria per la propria vita ecco ora parliamo delle curiosità che riguardano tristano allora la prima curiosità è che ha un parla italiano con un accento romano ecco questo probabilmente è dovuto al padre alla famiglia del padre che è appunto di roma ecco la seconda curiosità è che ha collaborato con la squale e appunto la squale ha realizzato seguendo appunto le sue indicazioni un modello particolare modello tgv che del del modello 1521 con cassa 1521 appunto della squale e a questo punto non mi rimane che ringraziarvi per aver visto questo questo video spero che vi sia piaciuto come sempre se vi è piaciuto mettete un like se lo ritenete opportuno iscrivetevi al canale io vi saluto e ci vediamo alla prossima puntata ciao a tutti e buona domenica ciao 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 ciao